Che mercato vede Nobili nel 2024? Il mercato è in crescita, è un anno molto buono per Nobili, anche in un mercato come quello della Germania, dove gli ultimi anni ha subito molte riduzioni, in realtà noi presso i nostri clienti siamo l'unico brand che sta crescendo negli ultimi due anni, quindi siamo molto contenti delle prestazioni che stiamo avendo e siamo molto contenti anche di come il salone sta andando, dei prodotti nuovi, delle due linee nuove che stiamo presentando in occasione di questo salone del mobile 2024. Abbiamo ricevuto moltissimi contatti e lo stand è sempre pieno, quindi siamo molto contenti. In Italia, in parecchi settori, in molti settori, si è visto l'effetto della fine del super bonus, quindi meno ristrutturazioni, meno impegno di cambiamento all'interno delle case. Lo vedete anche voi in Italia questo? Sicuramente sì. Nobili ha due brand differenti di rubinetterie, sempre sotto Nobili e Rubinetterie. Uno è N di Nobili, uno invece è Nobili. N di Nobili riguarda prodotti più professionali e per quanto riguarda quel mercato abbiamo visto che ovviamente la fine del bonus 110 ha comportato una riduzione degli affari in quel mercato, però abbiamo visto comunque che la nostra fascia, invece Nobili, più dedicata agli showroom, invece è rimasto piuttosto stabile con anche una crescita. Grazie a tutti. Grazie.